e bentornati al pg nationals sono in compagnia di paradox vincitore di questo game ciao paradox benvenuto ciao ciao a tutti grazie mille grazie mille prima cosa congratulazioni per questa vittoria per la tua prima vittoria al pg nationals dici un po come è stata questa partita contro gli atleta è stato veramente bello iniziare uno split in questo modo specialmente da rookie specialmente in botti per i minuti non ci siamo sentiti molto a disagio giocare contro gente con così tanta esperienza però diciamo che ce l'abbiamo fatta poi piano piano nel game andando sempre più amanti io penso sempre più confidence abbiamo vinto dei fight abbiamo vinto e ce l'avete fatta e voglio chiederti qualche la tua opinione su proprio su questa bot lane la tua sinergia con sandalo sandolas e abbiamo visto veramente estremamente coesi tanto da comunque tenere testa e sovrastare una bot lane che comunque formata da elze e cospetti insomma non una bot lane da niente quindi com'è la sinergia con il tuo compagno di lei con sandalo diciamo che ci siamo conosciti circa un anno e mezzo fa in solo più giusto per il suo nome perché si chiamava sandalo loro detto vabbè invitiamo alfredo più allora abbiamo iniziato a giocare a giocare torneini vari poi amazon university siamo arrivati secondi poi c'è stata l'opportunità in sports empire per appunto il tormento il primo in grado abbiamo vinto abbiamo continuato a giocare diciamo che ci siamo trovati in un'altra abbiamo un playstyle molto simile sì e voglio proprio parlare di questo percorso che hai fatto da rookie fin dal circuito tormenta per passare proprio in grado per arrivare al pg nations come è stato questo percorso di crescita per te allora adesso così è stato bellissimo proprio il resto è stato pieno di sacrifici specialmente diciamo dopo il proving grounds per arrivare al pg abbiamo fatto messi due tre mesi di doppio blocco ogni giorno sei game mi è stato molto impegnativo diciamo che se questi sono i risultati diciamo che ne è balsa la pena veramente molto bello e ti dirò di più non solo questi risultati ma hai ottenuto l'emvp di questa partita quindi come ci senti ad essere adesso non so cosa chiede di meglio veramente non so veramente non ho parole grazie grazie a tutti niente un saluto ad atleta mi ha accompagnato lo scorso spit come sab però ci becchiamo prossimamente e complimenti ancora per questa partita per le tue performance di oggi non posso che augurarti un in bocca al lupo per domani spero di rivederti in intervista grazie a tutti grazie grazie a te ed eccoci tornati con un parlox estremamente contento e direi giustamente esatto per le sue performance e quello che ha ottenuto con gli esports empire che hanno sovrastato il fatidico super team allora inizia ad essere un po di vizio come cosa a questo punto situazione però come abbiamo comunque messo giù il disclaimer è un team che ha bisogno di secondo me tanto tempo per imparare a trovare la sua strada perché un super team può diventare quel team che vince a mani basse qualsiasi partita può diventare quel team che come abbiamo visto adesso non sa come gestire le risorse in partita perché ognuno avrebbe bisogno di più risorse di quelle che sta ricevendo e da parte degli atleta secondo me il problema è stato questo in questo game ma voglio dall'altro lato mettere giù delle lodi degli esports empire perché proprio come ci si aspettava da un team che ha costruito lentamente un tassello alla volta sono arrivati al dei uno molto più strutturati dei loro avversari con un piano di gioco anche molto più chiaro quindi secondo me è stata proprio una differenza di percorso che li ha portati qui il potenziale può essere più grande dall'altro lato ma i risultati per adesso parlano chiaro d'accordissimo mi sono rimasto molto molto sorpreso di vedere la malizia in questa giocata questa botta da parte di sandolas e da paradox dire malizia per non dire la pazzia la sregolatezza l'estro creativo il playmaking più disinibito da parte di paradox che ha preso veramente il coraggio a fine mani ha fatto quello che vuoi vedere fare al tuo nautilus quando si tratta di dover affrontare un campione che vorrebbe tarsene lì a periscarare gx e noi l'è stato concesso affermato da subito usci sandolas e paradox a prenotare la mente di hands non pagando nemmeno l'affitto e soggiornandoci per lungo lungo tempo davvero impressionante come siano riusciti a dare a mettere proprio i bastoni tra le ruote nel fiore all'occhiello di quella che doveva essere sicuramente una delle corsie degli atleta poi per carità tra mighty e xonix hanno grande esperienze nel ciel gabbo che torna sappiamo che un palmarès una grandissima esperienza insomma era difficile trovare qualche punto morbido nella difesa abbiamo definito un super team non a caso quindi a maggior ragione mi sento di fare eco a quanto già detto per paradox e sandolas hanno veramente prese trascinato un game e non era facile ribaltare anche perché in mid le cose si stanno mantenendo un pochino male per er non ispiratissima uscita da sub per lui quindi ecco ricordiamoci anche che ho visto di sports empire con un severo è il caso di ribadirlo e voglio spostare di nuovo l'attenzione su gabbo che è nominato prima perché non ha avuto una partita ansiosa ansiogena come l'ha avuta la bottom lane però ha mantenuto ha si mantenuto la sua top lane ma non ha brillato come magari ci aspettavamo di vedere di vedere fare se posso dare la mia interpretazione penso che il momento di rottura sia arrivato su quella killing corsia inferiore da parte di brindamere il tentativo di 1v1 lo switch all'interno di questa partita dal gabbro dal gabbo macro al gabbo micro perché effettivamente gabbo avuto intanto punto 1 fase di corsia perché effettivamente hai parlato di quella ed effettivamente hai giustamente sottolineato come fosse meno ansiogena ma penso più per meriti di gabbo che per differenza di ansiogenicità dei match up perché in realtà effettivamente voglio dare anche un take a chi ci sta seguendo da casa mentre stavamo discutendo prima di cosa fosse ai miei occhi la draft degli sport empire l'avevo definita una draft totalmente criminosa criminale anche negli intenti proprio una draft fatta per fare male psicologicamente sui avversari sì sì mental war gorilla tornando a beppe pasta e capo ha giocato quella fase di corsia divinamente ha preso le torri della sua lane però quando poi si è andati sul micro diciamo che il team aveva troppo poco sostegno strutturale per permettere ad un campione come renekton di funzionare da solo non era non era una condizione per lui per funzionare assolutamente e adesso andremo a vedere invece un altro scontro se quello di prima era uno scontro epocale perché erano i nuovi team e le nuove organizzazioni interna il pg nationals adesso abbiamo invece lo scontro epocale tra match co e axolot beh quindi ci siamo è tempo è tempo è tempo quasi è tempo ebbene sì è il tirador du brasil contro nonno rares questa è una sfida è una sfida importante esattamente è la bottling delle stelle vedremo chi trionferà adesso la parola ai nostri caster ondia direbbero in brasile perché ora è mattina da loro o buonasera a voi e bentornati qui alla caster desk abbiamo davvero il nonno che non è tanto nonno perché se in solo q diciamo le dà in lungo e largo a tutti dall'altra parte c'è qualcuno che la sibyl all academy se l'è portata a casa è vero è vero se la girata se l'è portata a casa fa anche qualche qualche apparizione direttamente in sibyl stessa però questo è uno di quei match up che tanto 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 tanti stavano aspettando e sarà molto interessante vedere come un come l'approccio diciamo di squadra del genere alla prima giornata viene anche direttamente a manifestarsi perché tra l'altro ho avuto anche la visaglia da parte della regia che ci sono state le sostituzioni se non sbaglio amo capito e joker gioca credo ti ricordi quattro anni rimasto a dormire nel ck fanno male all'udito è vero è vero decisamente d'altra parte lo sappiamo che viviamo in una società nel pg nationals dove insomma il ritorno di gamma è una prospettiva che non mi aspettavo di vedere al day 1 del pg nationals 2022 ma sono molto contento perché perché ti vedo perché c'è la perché c'è la possibilità che adesso quindi vinca vada in intervista e quello mi rende sempre molto contento sono alcuni dei miei momenti preferiti della nostra intera trasmissione quindi ok ok questo che mi ha appena appena raggiunto delle stakes ulteriori mi dovrei spiegare qualche cosa lo spiegherà lo spiegherà lui stesso se lo vedrai l'intervista tranquillo non ti preoccupare andiamo a vedere cosa succederà perché vabbè ripeto rimango dubbioso andiamo a vedere però la picca in ban face perché sicuramente e dirò perché tanto così tante volte perché si cristo secondo me non vuole iniziare con una sconfitta chiaramente quello non è non è il piano tra l'altro mi dispiace allora da un certo punto di vista mi dispiace questo cambiamento da un lato sono contentissimo perché gama ti voglio un bene del dell'assoluto nel rivederti qua nel pg nuts sono contento è divertente è divertente vedi gama in partita e fuori dalla partita ma era tutto il giorno che mi stavo preparando il discorso di è presente i jungler in meta di cui parliamo sempre c'è lì sin no c'è shin zao e poi qual è il terzo jarvan jarvan e abbiamo un giocatore di jarvan nel pg nuts che ormai ci tira fuori bandi jarvan anche quando jarvan è lontano con il binocolo dal meta e non ce lo troviamo nel match debutto della sua squadra domani c'è domani domani vero potremo vedere se domani il buon robin tornerà a popolare le fila degli axolotl ma nel frattempo cambiano quindi un pochino forse alcune priorità il ban di akarim è un ban interessante perché non è chiaramente uno dei jungler prioritari che stiamo vedendo ma sta spuntando fuori ogni tanto quella nelle irl penso abbia fatto già capolino un paio di volte in queste poche giornate che abbiamo avuto per adesso una nuova stagione ed è molto interessante considerare il potenziale di inserimento di un jungler del genere perché quando pensi all'ultima volta che è che rimessato meta pensavi a quel metà rifarmi con e carmi lilia udir di inizio anno scorso e non siamo proprio una dimensione del genere però forse un pochino più di quanto sembra sì mi hai fatto ricordare gli incubi inizio anno scorso non è questo il caso non è ancora questo meno male un altro primo picco da una parte è quello di vi viego già ok ok allora bisogna dire io ripeto faccio molta comparazione con i campionati che abbiamo noi qui su pg e sports viego è un pic che sta prendendo sempre più possesso della landa di evocatori anche quando ci sono dei campioni come gli stessi sinzao lisin e jarvan che sono a disposizione inizia essere un po quella quarta scelta sta entrando nella top 4 già assolutamente sono abbastanza curioso perché dovrebbe essere questo un viago in giungla chiaramente a meno che non vediamo eventuali flex su una top lane dove un tempo era un pochino più popolare anche la mid lane in caso ma penso che ormai il suo spot sia molto più riservato nella corsia d'origine della giungla che altro i magico stanno andando su qualcosa di pienamente tradizionale in mente attuale sempre quella caitlin con un supporto enchanter da agitata al suo fianco mi piace anche che per coprire un pochino l'eventualità di scaling che va a contraporsi a quella caitlin magico abbiano anche optato per il band dei due maggiori hyper carry nella prima fase rimuovendo jinx e a felios e garantendo o comunque una giungla forte come shinzao ti stai preoccupando di coprire bene le fasi di early game dove altrimenti gli avversari potrebbero cercare di spingere in maniera più grande andando a contrastare quella che la tua volontà di snowball attraverso la bot lane ho un dubbio sentiamo se prima abbiamo avuto karma top si potrebbe essere anche l'ulto potrebbe esserlo potrebbe tranquillamente essere potrebbe essere un flex potrebbe essere presi non lo midline perché anche l'ultimo era una combo molto forale e molto forte ormai diversi mesi fa però si è vero è una è un'apertura che giustamente fa sottolineata perché stiamo comunque parlando di coach cristo e coach cristo con i potenziali di flex e di pic strani in draft ci va a nozze anche perché ho visto i ban di cristo è andato per camille gwen quindi proprio due campioni che potrebbero dare molto fastidio nelle fasi iniziali di gioco a una possibile lulu in corsia superiore ripeto è un'idea sto craftando una teoria certo e dall'altra parte invece siamo andati per la mid lane infatti sono state bannate sia le blank che sindra ecco qua abbiamo la risposta a quanto pare abbiamo una risposta non ancora definitiva non sappiamo se sarà top o mid ma sarà l'uno da solo lane quindi su questo rischia anche di andare a rispondere in maniera abbastanza prepotente a un doppio ban da mid lane perché se quella luva mid quei due ban sono andati praticamente a vuoto quello è uno xerath che se non sbaglio erano due pick che oman ci aveva proposto nella sua breve permanenza nel pg nationals con i cyber ground qualche tempo fa qualche split fa ma in ogni caso è quel tipo di artillery mage che nel meta attuale può anche uscirsi in abbastanza rinforzato dai diversi cambiamenti che ci sono stati all'itemizzazione da mago in corsia centrale quindi sono molto interessato a vedere oman e come ci propone di giocare un pic del genere l'ultimo pic che cambierà che farà capire il tutto che ci farà comprendere quale sarà la formazione dei match co match co che sono back to back potrebbe fare back to back to back e come diceva ok ancora questo non ci dice molto ma pochi secondi avremo l'ordine definitivo di selezione dei campioni e sarà in top e incondulo in corsia centrale che vedo comunque come la migliore risoluzione kai di mid lane avrebbe sofferto molto dal poke e dal fastidio da un campione come xerath mentre in top è contro un orn anche che vuole tendenzialmente scalare kyle dice perfetto insieme mano nella mano mentre loro su quella mid lane anche l'opportunità di giocare molto meglio il 2b2 con cinzao con quello molto potente che come giustamente sottolineato già anche negli scorsi split spopolava soprattutto mi viene a pensare che kyle è una versione rinnovata di cassadin se ci pensi livello 6 inizia a fare il suo dps dalla distanza quindi orn inizierà a subire un po il poke del giocatore avversario livello 11 saranno anche danni aria a un certo punto ea livello 16 vedrai le wave scomparire come se non ci possono mani e prendi il gioco di prestigio in cui vedi il coniglio che esce dal cappello e rientra nel cappello stessa cosa minion c'è mio non c'è sì la direzione sicuramente quella comunque l'identità di hyper scaler kyle da quello a suo fatti di core work l'ha sempre mantenuta molto consistente a una curva di scaling un pochino più liscia di quella di cassadin che invece spinge molto su quel livello 3 della sua suprema quindi sarà interessante vedere se i magico riescono uscirsene con questa kyle indisturbata dalla corsia superiore allora sappiamo che la minaccia più avanti sarà bella ampia anche perché stavolta ci sono due supporti ad affiancare il formazione da triplo care invece poi dei magico anzi possiamo dire due care in mezzo cinza fa un po da si entità separata secondo anche di come va il suo early game però è una kyle e una caitlin poi al suo fianco che avranno dietro il loro una lulu un trash pronti a proteggerli e contemporaneamente fare anche l'automa engage perché quello ce l'ha a dire non è un trash qualsiasi è il trash di click click è sempre stato un capacissimo giocatore di questo di questo champion e con la potenzialità quindi anche di poi andare a counter piccare la leona mostrata da tinelli trash se la cava molto bene ogni volta che arrivano l'ama dello zenith la spazza via nega quell'immediato engage e permette di giocarla in maniera molto più tranquilla e rilassata soprattutto click molto forte con quei campioni che possono essere degli ottimi engage mi viene in mente alistar durante la sua permanenza in makers la famosa topotto conquistato da click stesso quindi mi fa piacere vedere click su questi campioni e avere che i trini per ares mi piace molto la comparazione non orare su un campione così vecchio come caitlin non arcane arcane è molto giovane visto che vi piace mimare su questa cosa poi mi spiega anche questa perché non l'ho ancora capita è una delle nuove mod delle copypaste della twitch chat devo dire prevalentemente utilizzata su victor perché victor forse dei personaggi di arcane quello un pochino più anche in metà altrove qua ancora non si è visto però accogliamo quello che passa visto che ci siamo qui questo perché non hai piccato victor vittor 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 dove non lo so grave stop trindamere top ora non mi vengono perché oriana oriana si è vista così poco solo showmaker con 400 cs 0 0 0 poteva dire qualche cosa dove dove no vabbè tanto benvenuti su rando di vocatori ci siamo dico ci siamo siamo entrati naturalmente vi ricordo hashtag axl win mck win a tre in fretta mi sa che le belle sono aperte cosa di pesante si parte eccoli l'amo dello zaini per far fare danno c'è anche l'ignite lo stesso clic toxicolai e parti no cap è molto buono i dagli arrivano amon con il primo sangue proprio contro rarash ale si taglia il via alle danze in questa corsia inferiore un bel cinque contro quattro scatenato sì perché purtroppo kerberos non era parte di quello scontro con la sua kyle stava facendo un giro un po più largo e troppo tardi identificati gli avversari della lente dell'oracolo tinelli non viene interrotto dalla spazzata criticamente stavamo giusto parlando di come questa risorsa potesse essere così importante da utilizzare correttamente per trash non lo è stato fatto e questo vuol dire che la lama dello zaini va a segno leona è in mezzo al team avversario rarash a quanto pare non riesce ad evitare in tempo la carica ardente di orn che lo lancia in aria e lo attarda a tal punto da non lasciargli più sufficiente quel flash per la fuga è una prima kill primo sangue su xerath che parte già qui adesso con un sigillo scuro giuntivo in fase di corsia tra l'altro quello è un xerath a first strike quindi farmerà pure gold bonus ogni volta che si mette a passare il suo avversario omon è già bello sgargiul è già bello convinto il vantaggio conquistato gli dà molti diritti anche sto pensando ad un altro discorso non è stata utilizzata la purificazione da parte dello stesso rarash solo il flash poco dopo livello 1 però dire da parte di doxy che sarà molto più tranquillo perché non ha la sua q che gli avrebbe permesso un po di poccare dare fastidio allo stesso kairberos ma invece è andato per la e proprio per quella testata per permettere poi la kill trovata proprio dal suo mid laner e quindi possiamo dire che kyle ha potuto avere un livello 1 molto più rilassato sì è vero anche vero che tendenzialmente comunque questa direzione che questa top lane avevamo definito avrebbe preso kairberos non si aspettava certo di soffrire particolarmente l'aggressione di orn il fatto che possa soffrire ancora meno a un primo livello cambia poco le carte in tavola l'importante è iniziare già a macinare un po di risorse iniziali ora vediamo quando e come e dove i match potrebbero cercare di costruire qualche piccolo rimonto perché omon non è soltanto un campione che ti può arassare anche se sei sotto la sua torre grazie al suo range è un campione che ti può arassare dalla sua torre grazie al suo range e questo rende anche molto poco vulnerabile a eventuali engage e gank come abbiamo appena visto soff passare attraverso quella mid lane ma ahimè senza trovare alcuno spazio intanto qui sta arrivando gamma in corsia inferiore proprio per aiutare il suo compagno spottato dal da uno dei bulbi che dà visione nella parte bassa della mappa infatti soff ha avuto così possibilità di capire che non ci sono world e soprattutto di vedere gamma e quindi i giocatori dei match possono stare più tranquilli si attarda solo un pochino prima di muoversi verso l'arco gra anche per garantire che non ci siano problemi di alcuna sorta è maschile che già iniziano a rimanere un pochino indietro a livello monetario chiaramente quel primo sangue ti fa capire un po' il peso il resto immagino che omon grazie a questo primo colpo contribuiranno un poco al alimentare le casse degli axolotl nel loro cercare di guadagnare un vantaggio verso i loro avversari Bini con già un velocissimo acquisto delle scarpe al 3 per avere quella movement speed addizionale quindi soffrire ancora meno eventuali volontà di grab da parte di trash questo abbastanza comune per gin la movement speed è una statistica che ha grande valore per lui Bini che continua a dare fastidio ai due bot laner dei match con Raresh e Klik infatti hanno preso una granata l'altro noto attacco vi fa capire come Bini stia continuando a dare molta noia al team nemico ora in questo preciso istante vanno a frizzare la torre la torre no la million wave però quella si quindi sotto la loro torre in questo modo hanno la possibilità senza se e senza ma di dare molto fastidio a quando Raresh e Klik torneranno in corsia decisamente decisamente qua infatti Klik costretto un po' a muoversi verso altri lead per cercare di impattare un po' la mapa ma non si accorge di essere spottato da un lume di controllo e certo contribuire un po' a guadagnare pressione da parte del suo mid laner è il minimo che può fare anche per cercare di ristabilire un po' l'equilibrio in questa corsia centrale dove invece Omon sembra averlo un po' strappato a suo favore Omon che tra l'altro è già su un capitolo perduto a 5 minuti con un ottimo tempismo su recall mentre bot lane si sta spezzando il freeze più minion sempre più minion arrivano mentre Bini stiamo mostrando una collezione di diversi team brasiliani e di loro avventure a vari eventi internazionali passando per cosa erano i primi? Erano i flamingo? Flamengo, 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 sì aggressione da parte di Sof su Doxy proprio per dire Hey Doxy! Ciao ci sono anch'io, come stai? Tutto bene? La fase di corsia molto tranquilla comunque in questa top lane come ci potevamo tranquillamente aspettare Caraberos piano piano raggiungerà quel livello 6 e a quel punto Kyle diventerà un pochino più passivo da gestire perché sbloccherà l'abilità di attaccarti a distanza che non è mai particolarmente piacevole da vivere quando sei un tank da top lane primo movimento sul drago per Giaxolodule ed è un drago dell'oceano quindi abbiamo già la garanzia che non si ripeterà il colore della landa della prima partita ma anche che non ci stiamo bruciando i nuovi elementi fin da subito anzi oceano inferno vuol dire che abbiamo innanzitutto una landa di tematica diversa rispetto alle prime due e una buona chance di uccidersene fuori con uno dei due nuovi elementi come elemento predominante guardiamo un po' anche al livello perché la partita inizia subito con il botto e ora è molto più tranquilla perché naturalmente tutti i due team stanno provando a prendere sempre più oggetti a mettere pressione insomma il drago è stato conquistato comunque dai ragazzi di Giaxolod questo primo herald è ancora a disposizione dei due team sarà interessante vedere anche cosa porterà questa corsia inferiore perché ricordiamolo la possibilità di Orn di amplificare di migliorare gli oggetti permette proprio allo stesso Orn di dare una gold efficiency di ben 5000 gold totali questo dà proprio la possibilità agli stessi axol di dire ok quando saremo a pari build se saremo a pari build quando arriveranno gli oggetti da parte del stesso Orn beh tanti saluti siamo comunque più avanti a voi decisamente decisamente quello è un elemento da non dimenticare mai perché in quella corsa allo scaling di cui tanto si ama parlare certo Kyle ha da dire la sua ma Orn scala per tutta la sua squadra non solo per se stesso sembravano momenti un po' rischiosi qua per Bini sulla corsia inferiore con l'avvicinarsi anche di soft ma la buona copertura di visione e il fatto che Tinelli comunque stia si romando era lontano dalla botlane ma lo sta facendo in maniera efficiente compassandosi in mid lane aiutando il suo mid laner a spingere un po' le ondate ottenendo qualche stacco quindi dallo scudo reliquio e poi rispostandosi rapidamente nuovamente in botlane per supportare il suo tiratore ti garantisci che la tua presenza sulla mappa si faccia sentire senza mai veramente sentirsi troppo l'assenza invece dalla botlane Ferretra Solare che come avete potuto ben vedere ha aiutato Raresh a farmare su tuttore alcuni dei minion mentre nel frattempo Omon e Ho Ho vanno un po' a scambiarsi dei piccoli favori diciamo più Ho Ho sta riuscendo con lo scudo a mitigare i danni che arrivano dalla W Dixerat quello fa sempre comodo perché comunque nell'affrontare un campione che ha tutto questo potenziale di Aras la capacità di ridurlo di efficienza ti rende molto contento ma Omon ogni colpo che va a segno praticamente sono un po' di gold bonus grazie a quel first strike almeno ogni tot ogni volta che il cooldown ritorna disponibile qua però c'è aria di fight attorno a questo herald infatti arriva subito anche la mezzaluna difensiva l'azione Tinelli trova la kill su Sof arriva anche la ulti di Xerat di Omon con i danni di Bini che va a trovare la prima uccisione benvenido Bini in questo piginazzo già e che è azione ben costruita da parte di Axolotl che ordine nel cercare quell'engage parte Tinelli con la sua leona si affianca l'engage di Doxy con il caprone si aprono le due supreme a lungo raggio quella di Gine e quella di Xerat e i danni arrivano a pioggia senza che i magici possano veramente rispondere in alcun modo anzi tra l'altro voglio un po' vedere alcuni dei movimenti alcuni degli spostamenti perché mi sembra tra l'altro che Kerberos abbia dovuto flashare oltre un muro no ha flashato forse per cercare di ultare ma senza riuscirci in tempo ahia quello fa male quello è anche un cooldown addizionale che se ne va ben costruita questa azione da parte di Axolotl io non voglio certo avanzare gufate né niente ma metto le mani avanti avete gamma da mandare in intervista eventualmente ricordatevelo è un'occasione speciale non sarà qua tutti i giorni quindi dovesse vincere questa partita facciamogliela fare un'intervista allora tu hai iniziato a parlare di gamma e quello che è successo hanno perso l'herald ma non è colpa mia non è colpa mia chiaramente qua no vabbè un herald che è passato un po' in secondo piano dopo la priorità trovata da quel fight comunque le risorse che gli Axolotl stanno incassando da questo regame sono ottime e anche il modo in cui si stanno ben distribuendo il tutto come compagni è fantastico 1-0-2 100% di kill participation per Jin 0-0-3 e 0-0-3 per top e giungla questa è una squadra che sta giocando insieme in maniera affiatata e che preme il grilletto quando sono pronti a farlo non c'è veramente troppa esitazione anzi paradossalmente la persona che ha meno kill participation è Tirelli con Leona che è veramente assurda come cosa anzi è ancora più assurda il fatto che sia 1-0-0 e neanche 0-0-1 l'unica cosa da pensare è il fatto che aspetto che uno dei due team possa aprire le varie corsie proprio riuscire a dare la possibilità di vedere qualcosa di diverso di vedere più apertura delle tre lane scambio di opinioni in questo momento Doxy ringrazia dice va bene i danni di Kerberos arrivano ma comunque Doxy ha modo di sostenere molto volentieri tra l'altro noto con piacere come praticamente tutti i giocatori degli Axolotl siano molto accesi sul loro emote game Omon l'abbiamo visto spammare a più non posso ma anche Doxy su Kratopnik si sta ben divertendo Bini con tutte le collezioni di team brasiliani qua insomma gli Axolotl vogliono ben assicurarsi di vincere anche la guerriglia mentale una buona combo già qua subito per allontanare un po' l'Aresh mettere un pochino più nei guai la zona di questa corsia inferiore diventa un po' difficile da navigare per i match soprattutto con queste continue incursioni di gamma ma occhio perché Omon potrebbe essere nei guai poteva essere nei guai detto molto bene perché poi c'è stato il flash da parte proprio del mid laner degli Axolotl colpo perfetto per andare a fare danni su gamma i danni arrivano arriva anche l'azione da parte di Tirelli arriva lo stunno arriva tutto la crescita selvaggia dovrebbe salvare il giocatore dei match e così sarà infatti e così sarà infatti non arriva l'ultimo colpo il dio della forgia potrebbe trovare l'Aresh non lo trova ben fatto dai match con soprattutto Sof devo dire scarpette da tip tap per lui veramente una gran capacità di eludere le aggressioni avversarie spostarsi nel momento giusto attivare la suprema nel momento giusto una grande comprensione di quali erano i propri limiti e quelli dei suoi avversari e gli Axolotl sembrava che avesse una salda presa su di lui l'engagement di Tirelli di un momento era stato ottimo ma Sof va un po' in barba a tutti gli avversari sopravvivendo e imboccando una kill purtroppo a Lulu non proprio il bersaglio più goloso nel frattempo caro Etrurian come ci annuncia la scritta si solleva la nebbia Kempte quindi apri tutte le finestre apri tutte le porte qua l'inquinamento lo smog è giunto sulla landa degli evocatori non c'è la paperella però in questo momento eh chiediti come mai è operare le leve dei macchinari che diffondono lo smog l'apparazzi di Zon davvero è veramente cattiva mette queste guarda anche i lupi per fortuna i miei lupi li lasciano sani e salvi poveri lupi se no come avrebbero fatto non lo so comunque il problema della landa Kemptek è uno se lo dovesse prendere l'anima il team in svantaggio cosa positiva per l'ultima in svantaggio può recuperare molto più facilmente in quel caso l'anima Kemptek ricordiamo cosa fa ricordiamo cosa fa giustamente l'anima Kemptek offre ai campioni che la guadagnano una sorta di passiva di Zion quando muoiono per qualche istante ritornano in vita zombificati zombificati quindi perdendo vita continuamente e essendo anche subendo anche danni in meno questo è un dettaglio che non molti sanno ti fermo perché Kerberos sta per dire forse ciao no no non ho deciso di non andare sempre rischioso dai varon a kaila con quella suprema a livello sì non sai mai veramente cosa può capitare però per l'appunto la la cosa che forse a connessione immediata finché non lo vedi non ti viene proprio immediatamente in mente e devo dire io ho soltanto recentemente effettivamente visto in partita gli effetti di un anima chemtech perché da volte è anche difficile arrivare all'effetto dell'anima avevo sempre in mente quella cosa di ah ok sì la passiva di Sion il problema è che aspetta 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 perché c'è il flash e Kulik con l'uncino va a prendere l'avversario e sarà Kerberos a trovare la kill ben fatto e questa kill è anche ben assegnata nelle mani di Kyle darà sicuramente un ottimo valore ai propri dati quello che sto dicendo è che Sion quando torna in vita con la passiva non può usare le sue abilità chi ha un'anima chemtech può farlo e come quindi diventa ancora più fastidiosa la capacità di avere quel mini res momentaneo quello che appunto stavamo disperando in generale è che è un cambiamento comunque ancora molto controverso quello dell'anima extech penso che abbia un suo posto che ancora forse non è stato ben identificato mentre ha pensato un posto nel cuore sì nel cuore e nel meta nel cuore di non molti perché per adesso mi sembra abbastanza odiata la cross the board però nel meta penso che ci siano modi di sfruttarle di renderla forse un po' meno fastidiosa di come appare adesso che verranno sicuramente esplorati nel corso della stagione tanto qui match avendo preso questo piccolo vantaggio grazie anche alla torre conquistata in corsi superi dovrebbe essere la prima torre dato proprio il fatto che è arrivato anche l'herald ad aiutare gli stessi giocatori di match ora i match hanno un svantaggio di solo 300 unità d'oro grazie proprio a questo primo mattone e altra cosa non si è visto così tanto in questa corsia centrale soft con lo stesso ho ho arriva anche l'uncino mamma mia click mi fai ricordare delle bellissime memorie l'hai appena detto non si era ancora visto molto soft in combinazione guarda quello è soft che carica in avanti prende un bersaglio rallentamento un cino e quella è una kill su serath che insomma non è particolarmente comoda da subire per gli ex-lodal perché quello che serath era partito molto bene e adesso già la sua seconda morte in questi pic sulla corsia centrale sta dando tanto tanto spazio di manovra indietro ai magico i magico stanno guadagnando molto ora il grande cambiamento che io credo venga applicato al gioco nel momento in cui si manifesta una landa camtech in realtà non penso sia l'anima camtech perché l'anima come detto è difficile da raggiungere se una squadra ci arriva bene se non ci arriva pazienza come esce esce ma la cosa più pesante secondo il cambiamento del gioco è quanto cambia il gioco della visione perché quelle nuvole di smog attorno ai buff rivelano o meglio occultano i campioni non permettono a quei campioni di essere rivelati da lumi normali devi andare a wardare con lumi di controlli questo vuol dire spese aggiuntive per tutti i giocatori che devono essere molto più aggressivi nel loro warding perché i lumi di controlli ti danno benefici ulteriori permettendoti di spottare campioni invisibili e lumi invisibili ma sono visibili a occhi uno degli avversari e questo vuol dire che anche la linea di visione nel momento in cui uno spot viene continuamente contestato dalle due squadre viene pulita rimessa ripulita rimessa così tante volte che la spesa per mantenere visione attiva in un punto della mappa per i tre minuti della war tradizionale diventa enorme guarda gli Axelotl passano di lì c'è un lumi di controllo lo vedono tranquillamente lo puliscono e adesso i match sono c'è chi e per riaverlo devono tornare lì buttare altri 75 gold un cino che non va a segno c'è lo stun però da parte dei giocatori degli Axelotl oxy blocca Narece oh oh possono provare ad entrare il dio della forgia che entra in gioco prova ad andare a colpire Sof e anche Carveros ci riesce l'entrata della chiamata della ribalta non va però a trovare altre kill riescono i match che rimanere in vita viene preso Tinelli potrebbero continuare i fight arriva potrebbero continuare ancora evocano anche l'era dei giocatori degli Axelotl per pushare questa corsia centrale potrebbe essere torri i danni arrivano ora da parte di Omon che sta aspettando il momento di poter attivare la sua ultimate per mettere altri danni sui nemici ma ancora non è arrivato il momento di utilizzare questa spell eh già vogliono scambiare un po' la pressione sulla midline in cambio di quel drago ma non riescono ad arrivare fino in fondo minacciare la struttura quindi quello alla fine è un drago gratuito praticamente per i match che tengono anche non poco in quelle continue posizioni di trade anzi sembra che siano loro quasi a giocare con i loro avversari con la distanza del range che vorrebbe invece essere la grande feature degli Axelotl con questo Xerath purtroppo molte supreme degli Axelotl sono andate un po' a vuoto nel cercare di chiudere su quel trash come bersaglio prioritario e sprovviste di quell'engage che ti offre Leona e quello che ti offre Orna erano un po' costretti a rimanere alla merce dei match che hanno detto ok adesso tradiamo adesso andiamo a prendere il drago lanciate pure la vostra capocciata del messaggero sulla torre tanto non cade ancora bella in salute e poi torniamo a prendere il controllo su questa mid lane ottimo ottimo il controllo dei match che stanno riemergendo con adesso un vantaggio in gol sempre più marcato e il loro secondo drago torre conquistata però da parte dei giocatori degli Axelotl questo gli permette anche a loro di recuperare un po' di unità d'ora e di rimettersi più sotto ai giocatori avversari se non fosse che Raresh Sof e Ho Ho hanno deciso che questa torre centrale non doveva avere più vita livello 12 per Kerberos quindi ricordatevlo ha gli autoattacchi a distanza e soprattutto quando arriva dopo il quinto attacco sono danni ad aria quelle ondate che vediamo adesso falciare i poveri Krug non faranno altro che diventare più forti una volta che reggerà il livello 16 aggiungendo addirittura danni puri se non vado errato a tutto quel buon ammontare di DPS Kyle che tra l'altro si è già mossa su un dente in Asher oggetto con il quale si negizza perfettamente e ha quello sguardo prosciugante che lascia presagire il Sagomaland in arrivo presto ma la direzione che Kerberos sta prendendo in questa partita è comodissima non ha veramente sofferto niente da parte del suo matchup diretto in corsia le prime fasi di teamfight no tranquillissimo buon vantaggio in CS 1-0-1 ben piazzato verso un comodo comodo scaling intanto in corsia centrale Bini ancora il brasiliano che sta provando in qualche modo a farmare a dare una mano Soff lo vorrebbe prendere da dietro Doxy molto bravo arrivano i danni arrivano gli stun provano ad entrare viene aiutato dall'uncino dall'uncino dal mastro uncinaio potremmo quasi dire ma soprattutto dalla lanterna ora Soff decide di rientrare i danni stanno arrivando arriva l'exhaust anche su click Doxy riesce a scappare preso dall'ignite questi Axolotl hanno bisogno di una coordinazione un po' migliore nel loro presentarsi a queste aggressioni perché molte volte vediamo queste Supreme partire e infrangersi su bersagli non vulnerabili Soff basta attivare la Suprema e per Ginexera diventa molto difficile fargli male serve che Gamma sia una buona posizione per aggiungere DPS serve che Bini magari sia nella posizione di sicurezza di stravantaggio numerico da potere magari addirittura entrare all'interno dell'area della mezzaruna difensiva ma non sembra quasi mai essere questo è il caso per gli Axolotl che continuano a tirare abilità sul nulla mentre i Magico vincono di pressione di mappa nel frattempo una torre interna conquistata da Kyle che sta formando in solitaria CS quindi esperienza aggiuntiva tutti quei gold bonus locali della torre interna danno i suoi frutti questo per Kerber sarà sul recall un secondo oggetto sicuramente oh 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 click l'ultimo colpo non arriva il 4 non va a segno lo aiuta oh oh grazie anche i sogni di Shurelia che gli dà movement speed ma giornata e questo permette proprio al giocatore dei Magico di rimanere in vita che fortuna di avere quella Lulu nelle vicinanze che fortuna che Lulu si è così focusata su quella velocità di movimento purtroppo Bini non trova quindi l'ultimo colpo e anche se questo aiuta un po' alleggerire la pressione da questa mid lane a favore degli Axolotl e conquistare finalmente questa torre esterna riportandosi su un pareggio su una sorta di equilibrio di torri che dà comunque agli Axolotl un po' di spazio tra l'altro stiamo arrivando verso i primi potenziamenti perché vedono l'inventario di Bini un tifone adesso ovvero la versione potenziata del Tempeste Impetuosa Bini che è andato per una build diversa rispetto a quella che stiamo vedendo ripetutamente da vari AD carry regolari Sandolas ci ha fatto vedere Seraphim quindi lei la mettiamo da parte decisamente perché se abbiamo visto da due Caitlyn il solito build path quindi Tempeste Impetuosa per i strutti di Lord Dominic in questo caso oltre al tifone potenziata proprio da parte dei Doxy la scelta va per un collezionista non a tutti i torti perché con tutti questi scudi con tutte queste diciamo cure anzi no più scudi che cure che possono arrivare vuoi arrivare a quella tacca che serve per distruggere gli nemici ed è un oggetto che scala così bene con Jhin perché Jhin beneficia così bene di AD e letalità e questo è un oggetto che li combina molto bene aggiungendoci anche quel critico Click stavolta persino costretto a flashare dell'engage avversario ma guarda come i match stanno continuando a disingaggiare a disinnescare le minacce avversarie e piano piano Kerberos sta scalando anzi Kerberos è da solo si sta per prendere una seconda torre interna tra un po' questa Kyle è un'enorme minaccia è soprattutto una minaccia perché Doxy non può realmente rispondere al suo diretto rivale poiché non ha i danni che gli permettono di dire ti posso far paura e quindi meglio scappare è felice è felice in questa cosa Kerberos dire è Orn tanto gli faccio un po' di DPS poi vediamo cosa succede i match stanno perfezionando l'arte del prendere tempo gamma gamma vendite la cenante per riuscire nella fuga ah vedi cerca rifugio nella fronda di suo nome la trifronda la gamma fronda così chiamata dai grandi esperti intanto terzo drago in maneggiocatori dei match quindi soul point per loro e gamma che io capisco che ti piace Moonboy è il tuo più grande stimatore ma in questo momento ho come la lenta sensazione che qualcuno morirà perché Sof vuole chiudere Sof lo vede e probabilmente Sof potrebbe morire proprio no no purtroppo no gamma un po' troppo lontano questo giro dei suoi compagni un po' troppo lontano dall'assistenza del resto degli axolotl chiuso in una lane scomoda avrebbe dovuto cercare la fuga ben prima ci stiamo ormai ci stiamo ormai spingendo verso un vantaggio sempre più marcato di questi 2 stack ormai di quel drago che tra l'altro non abbiamo neanche veramente menzionato il suo effetto delle stack al di fuori dell'anima l'anima ok abbastanza esaustiva ma le stack sono comunque molto utili perché tirano danno bonus verso bersagli che hanno la salute attuale maggiore della tua quindi per campioni che comunque come Kyle e Caitlyn non vanno ad accumulare troppi HP nell'affrontare invece campioni come Orn in primis ma parallelamente anche Viego e Leona fanno molto comodo aggiungere quel DPS in più quando l'avversario è un po' più tancoso ti aiuta e non poco nel frattempo dovrebbe arrivare il potenziamento sulla tempesta di Luden di Omon che diventa quindi l'occhio di Luden se non vado errato in questo caso non ti posso aiutare non ho la wiki che mi aiuta ammetto la mia ignoranza da questo punto di vista mentre in costa centrale inizia a esserci il presagio per una bella Aram perché vediamo tutti i due team che vogliono provare a fightare comunque a trovare una kill soprattutto per Yaxalot anche a livello mentale che aiuta tantissimo poiché a mio modo di vedere di pensare in questo momento Yaxalot hanno bisogno di trovare uno sbocco perché ogni volta che c'è un fight sembra quasi che Yaxalot non riescono mai a fare danno mai ad arrivare a qualcosa da Doxy ora qui si era messo davanti il dio della forge di nuovo un'altra volta per provare a trovare qualcuno troverà il povero click vogliono andare a trovare l'uccisione la trovano finalmente la crescita selvaggia non va a segno Sof con la mezzonea difensiva Kerberos con tutti i danni Doxy prova a scappare la ultimate di Kale per aiutare Sof i danni arrivano sarebbero abbastanza potrebbero sembrare nuovo solo Raresh continua doppia kill per Raresh bella azione Magico ancora stanno inseguendo Kerberos il flash da parte di Kerberos la kill è presa da lui manca poco per prendere Omon il flash da parte sua per scappare oh mio dio ha chiamato la ribalta potrebbe essere abbastanza per un'altra kill non è così ma forse Omon potrebbe trovare con la sua artigliere della distanza non sarà questa situazione teletrasporto per salvarsi TP per salvarsi fuga quindi ritrovata gli Axalot che comunque escono pestati ben pestati da questo fight l'aggressione di nuovo si sfoga tutta su un singolo campione che è quel trash e posso capire magari intenzione iniziamo a cercare dei reset per Viego iniziamo a cercare un po' di setup ma la risposta di match è stata ottima con Sof e Kerberos e oh oh anche dietro lui ma questo Shinzao è protagonista totala guarda come si lancia avanti anche se viene inizialmente immobilizzato ha il supporto di quella Kyle con la sua suprema ha il supporto di Lulu della distanza che continua a buffare anche Raresh che adesso indisturbato dietro al muro va un DPS incredibile e Kerberos ormai quasi livello 16 conquista Kyle talmente coraggioso da potersi tuffare avanti da potersi permettere questo tipo di scambi ecco adesso lo contiamo livello 16 raggiunto persino un copricapo di Rabadon in inventario brutta brutta storia per gli Axolotl che si trovano a fronteggiare uno dei campioni nella sua forma più possente che League of Legends abbia da offrire anche stavo rivedendo un attimo un paio di cose penso che sia un errore dello spectator il fatto che non vedo più gli oggetti potenziati si 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 ho avuto paura ho detto si può ora tornare indietro no ridammelo non te lo meriti teniamolo a mente ovviamente quello di Orn è potenziato dovrebbe essere se non altro quello di Jin se non sbaglio è stato il primo quello di Jin è il primo poi c'è stato proprio Omen con Xerath si Xerath con il secondo tra l'altro abbiamo anche un altro nome molto bello l'agnentatore divino si è potenziato da Orn diventa il Dei Cidio che ritengo un nome assolutamente spettacolare provano l'aggressione eccola anche con il Dio della Forgia per provare a prendere Ho Ho che viene saltato messo in aria continua Omen a fare danno ora però viene bloccato il corpo perfetto gli fa capire che potrebbe mettersi in guai seri Ho Ho chiama anche un po' i suoi compagni per recuperare HP in più il tentativo è lodevole ma stanno solo perdendo tempo gli Axolotl questi engage da lunga distanza non vanno a segno nel frattempo Kerberos è diventato una furia della sideline persino in due non so quanto riuscirebbero a arrestarlo rallentarlo questa Kyla è tremenda ciao Gama è stato bello conoscerti ora probabilmente anche Omon infatti oh bella questa azione la parte di Soff che va a slowarlo lo vanno a cappare lo va a mettere al tappeto ma Kerberos sta solo contro tutti no Dox alla fine gli dice good night no ma è una magra consolazione questo è un singolo horn con pochissime HP che cerca di affrontare quattro giocatori incattiviti dei magico che con mano del barone al seguito vorrebbero forse puntare direttamente alla chiusura viene presa la prima torre del Nexus il primo testello è stato messo arriverà la seconda torre del Nexus ed è il secondo testello mi dispiace Moonboy non ci sarà gamma all'intervista perché il Mascco eSport sono i ragazzi tosti il Mascco eSport si porteranno sull'1-0 contro Yaxlok GG che partita che ripresa che ci hanno mostrato questi Mascco nella nostra terza partita di oggi un ottimo modo di rientrare in partita di avere sempre nella mente quell'idea chiara di ho la mia combo ho il mio Shinzao per i teamfight ho la Lulo ad aiutarlo ho la mobilità di quel trash con la lanterna per sfuggire dalle volontà di engage avversari e purtroppo devo dire questi Axolotl non li posso recriminare per non averci provato perché ci hanno provato 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 e riprovato per tutto il mid-game ma i loro engage non andavano a segno ogni volta erano disorganizzati Temo perché con un po' più di precisione con campioni come Orn Leona in particolar modo dovresti essere in grado di garantire una chiusura a tratti penso più il follow-up mancava perché se vedevi soft rimaneva sempre in vita in qualche modo perché l'ingaggio era giusto andavi a prendere soft poi quella overkill forse su trash è stata un po' l'inizio della disfada voglio dire abbiamo trovato una kill ma abbiamo perso tutto sul support devi capire come ingaggiare a seconda anche della necessità avversaria perché è vero soffre un bersaglio prioritario assolutamente e molte volte abbiamo visto nel mid-game partire con gli engage proprio nella sua direzione ma se quello Shinzao può semplicemente permettersi di schiacciare R appena un attimo libero dai controlli e andare a completamente a negare per i prossimi secondi il DPS di Gine e di Xerath che sono gli unici veri DPS che gli Axolotl avevano al fianco in quel momento allora tanto vale che l'engage non l'abbia fatto perché ormai una volta che scade quella mezzuna difensiva è scaduto anche tutti i controlli che hai provato a lanciare e quello Shinzao avrà alle spalle i suoi alleati che nel frattempo sono arrivati a soccorrerlo quindi purtroppo ci sono stati pochi momenti per gli Axolotl in cui ho visto veramente un filo conduttore paradossalmente li ho visti molto più efficaci da questo punto di vista nell'early game prima che avessero tutte quelle risorse come la fiammata solare o il richiamo del dio dalla forgia una volta che quelle supreme sono state sbloccate era difficile vederli utilizzati in maniera ben coordinata e anche se voglio spezzare assolutamente una lancia a favore dell'esecuzione meccanica dei giocatori dove a parte alcuni leggeri misstep nello specifico magari da parte di Omon che è stato piccato qualche volta Tinelli ha giocato molto bene meccanicamente penso veramente che l'unica cosa da animare sia un po' la coordinazione la comunicazione e anche avere un affrontare una squadra che ti permetta di giocare un pochino meglio secondo la tua condizione perché dall'altro lato i Magici erano tranquilli avevano tutti i modi per disingaggiare e bloccare gli engage avversari e avevano quella garanzia di Kerberos con la Kyle che abbiamo visto poi nell'ultima azione in top lane che Diamine ha fatto anche se pensavo a Beanie che era 3-0-2 prima dell'ultimo teamfight comunque era sempre posizionato molto bene quindi a livello meccanico sono tutti a posto mancano alcune piccole cose e poi vedremo anche andando avanti perché i Magico back to back vogliono fare anche il back to back to back di Star to Stack andiamo a vedere l'MVP che potrebbe essere per i Magico Kerberos Sof o Ho Ho? ecco qui domanda a te sì chi? chi? bella domanda dove ti è la possibilità di iniziare vai così ti seguo direi in questo caso probabilmente Sof Sof l'ho visto comunque molto protagonista e soprattutto l'ho visto con un'idea ben chiara di quello che doveva fare nel corso dei teamfight sapeva di avere sapeva di avere il supporto di quella Kyle di quella Lulu alle spalle ma il modo in cui si posizionava per assorbire l'engage avversario disinnescarlo e poi permettere l'ondata di ritorno in Magico era veramente ottimo Kerberos ha fatto una fantastica performance con Kyle ma di nuovo non penso che ci siano state molte cose a metterlo sotto pressione nel corso della partita la lane non era certo difficile e anche la sua conversione poi verso il teamfight è stata molto liscia non sono mai veramente andati troppo a rompergli le scatole e HoHo ha fatto il suo un'ottima Lulu che è riuscita devo dire questo anche una grande lode a sopravvivere molto bene alla fase di corsia contro Noxerat nonostante la vedessimo costantemente ogni volta che la telecamera era in mid lane subire danni poke, spell mangiarsi tutto in faccia però il modo in cui ha convertito tutto quello da un early game dove alla fine se una Lulu non hai bisogno di così tante risorse a un mid game dove vai Shinzao vai Caitlyn fate il vostro lavoro è stato molto bravo vai scelgo te vai e conquista esattamente abbiamo Cristo in intervista subito dopo la pausa con Juniper allora direi chiamiamo la pausa perché voglio sentire cosa dice Cristo bravissimo